Operazione denominata Alto Impatto, nell'intera provincia di Cosenza, anche in questa settimana, sono state effettuate mirate azioni di controllo del territorio, decise in sede di riunione tecnica di coordinamento preseduta dal prefetto di Cosenza, dottoressa Vittoria Ceramella, e predisposti in sede di tavolo tecnico dal questore della provincia di Cosenza, dottor Giuseppe Cannizzaro, d'intesa con i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Agatino Saverio Spoto, e della Guardia di Finanza, colonnello Giuseppe Dell'Anna. I predetti servizi hanno visto sul territorio un significativo dispositivo interforze, costituito dalla presenza congiunta dei militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, unità del reparto prevenzione ai crimini Calabria Settentrionale, unità cinofile, specialisti delle varie forze di polizia, nonché delle polizie locali competenti. Con l'intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le forze di polizia, si persegue l'obiettivo di fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione dei reati in genere, colpendo target precisi, già individuati e monitorati nel corso dei vari servizi ordinari e straordinari, posti nati in tutta la provincia. Controlli sono stati effettuati nelle zone più frequentate della città di Cosenza, nei comuni di Cassano all'Oionio, Scalea e Corigliano Rossano, dove si sono registrati episodi delittuosi. Nell'area urbana di Cosenza sono stati effettuati controlli e perquisizioni, personali e domiciliari, a seguito dei quali sono state elevate sanzioni a norma dell'articolo 75. Inoltre, sono stati effettuati controlli ed esercizi commerciali, a seguito dei quali è stato denunciato in stato di libertà un commerciante per non aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 29. Nonché sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.600 euro, a seguito del rilevamento della presenza di lavoratori in nero, con relativa sospensione dell'attività commerciale. Nel comune di Scalea si è proceduto a numerosi e mirati controlli nei confronti di persone con pregiudizi penali e altresì controlli di veicoli per cui sono state elevate sanzioni amministrative e sospensioni della patente di guida. Nel comune di Scalea si è proceduto a numerosi e mirati controlli nei confronti di persone con pregiudizi penali e altresì controlli di veicoli per cui sono state elevate sanzioni amministrative e sospensioni della patente di guida.